Sono 14 nuovi casi di positività al covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. Il totale risulta inferiore di una unità in quanto è stato sottratto un caso registrato in provincia di Chieti e risultato già in carico ad altra regione. Dunque salgono complessivamente a 3.919 i casi positivi al coronavirus registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. I nuovi casi odierni hanno un'età compresa tra i 21 e i 60 anni mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2.924 dimessi guariti più 10 rispetto a ieri di cui 15 che da sintomatici sono diventati asintomatici e 2.899 che hanno risolto i sintomi di rinfezione sono risultati negativi in due test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi guariti e dei deceduti sono 523 più 3 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 167.478 test. 34 pazienti più 3 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedali in terapia non intensiva, 2 in variato rispetto a ieri in terapia intensiva mentre gli altri 487 anche in questo caso dato in variato rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi 520 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila più 1 rispetto a ieri 929 in provincia di Chieti più 4.1713 in provincia di Pescara più 4.721 in provincia di Teramo più 1.5 più 3 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. 31 fuori regione